Ho scritto tra volute di fumo, inserate alla deriva, con bicchieri d'appoggio e nessuno nel mondo, i momenti migliori. Dopo i momenti peggiori, su e giù, su e giù, i migliori si diradano, i peggiori infittiscono su e giù, su e giù, il soggetto in questione ci pensa a lungo. Scriverà sulla tomba, morto in altalena.